Giulio Verne aveva un problema, voleva salvare il mondo. Una firma contro il nucleare, una firma per salvare i bambuini. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione. 110 e basta. C'è una donna che sta male. La strada è in mezzo a chi mori, dai. Negli animali morti, delle bombe. E clorofluorocarburio. Ma non ci riusciva. Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più! Io c'ho una cosa che ti può aiutare. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Vabbè la provo, dai, tanto peggio di così. Con questa la usi solo il 2%. È buona, eh? Scopare! Eeeh! Dal basero con lo sciuto la maiale su peso buco. Lo portate su un zoom e glielo ho buttato! Eeeh! 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 Io non riesco a capire, è completamente un'altra persona, è impossibile! Eeeh! Il nostro leader! Non basta! Non basta! Ha 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 ha! Mamma che cazzo me lo prega a me! Italiano Medio, il primo film di Maccio Capatonda. Scopare! 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 Scopare!